Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La notizia della gravidanza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto il giro del web grazie a un post su Instagram. L'influencer italo-persiana è in dolce attesa del suo primo figlio, mentre per l'ex velino di Striscia la Notizia si tratta del secondo pargolo, dopo il bambino nato dalla relazione con Ariadna Romero, in una serie di foto pubblicate con una dolce didascalia in cui Giulia mostra un pancino appena pronunciato e Pierpaolo le accarezza delicatamente la pancia. La Salemi ha scritto, sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita, desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescere nel migliore dei modi e sono certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te. L'annuncio della gravidanza ha commosso amici e fan con numerosi commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Simona Ventura, Andrea Zenga, Gwenda Goria, Cecilia Capriotti e Francesco Chiofalo. Al momento Giulia e Pierpaolo non hanno rivelato altri dettagli sul bebè in arrivo, ma sicuramente terranno tutti aggiornati.